Benvenuti a questo appuntamento estivo con lo sport che continua a essere di grande attualità nell'Alto Casertano in vista della sentenza disciplinare in merito alla vicenda d'Auna. Come noto punita per illecito sportivo, questo significa l'anno prossimo eccellenza per la squadra del mister Morra qui alla nostra destra o serie D come spera anche il signor Loffreira che è il direttore sportivo della squadra del Teppini. Ci troviamo nel bar avant-garde di Piedimonte Matese, un appuntamento questo che speriamo di ripetere. Allora la prima domanda la rivolgiamo al direttore sportivo della squadra di Piedimonte. Se il Treppini sarà promosso, quali potrebbero essere le difficoltà organizzative? Beh, allora innanzitutto buonasera. Nulla, noi aspettiamo prima questa sentenza del prossimo venerdì, sentenza di appello che ci sarà a Roma e dopo di ciò capiremo su quale categoria ragionare. Ovviamente però non nascondiamo che comunque noi ci stiamo muovendo anche a titolo del tutto organizzativo che sia eccellenza o serie D, ci stiamo muovendo in tutti i sensi perché comunque una serie D porta importanti scelte da fare e soprattutto importanti scelte organizzative perché è la quarta serie e siamo alle soglie del professionismo e quindi non possiamo assolutamente sbagliare. Quindi noi ci stiamo impegnando al massimo, cercando di preparare un progetto che tenga conto della territorialità che ci ha sempre contraddistinto in questo periodo e andiamo avanti, speriamo bene. Cosa vi aspettate dalla sentenza di venerdì? Ma nulla, per il momento che ci confermino che il titolo è il nostro, anche perché la Dauna chiede dalla lettura di sentenza di appello che ho fatto che loro chiedono una penalizzazione nel prossimo campionato, però se il lescito sia ufficializzato più di questo loro non possono fare, quindi penso che il titolo rimane a noi. Mister, la sua posizione, se lei viene confermata come tutti si augurano dopo un campionato così spettacolare come ha fatto il Treppini, come pensa di rafforzare la squadra? In quali reparti? Buonasera, mi auguro che tutto questo avvenga, soprattutto diciamo che il Treppini venga ripescato in Serie D, non ripescato ma siamo tutti in attesa per quanto riguarda questa sentenza e quindi niente, acquisti e questa è poi una cosa che bisogna valutare con la società, eventualmente dovessi rimanere io come allenatore. Ma dove ha bisogno questa squadra di giocatori per mantenere la categoria eventualmente, come tutti si sperano, fosse la Serie D? Ma io credo che soprattutto anche l'anno scorso noi avevamo qualche problemino al centrocampo, quindi è lì che dovremmo per forza di cosa valutare un attimino la situazione, anche perché quest'anno ci saranno quattro under in campo, non più tre, di cui un 96, due 97 e un 98, quindi è ancora un pochettino, diciamo così, la situazione rimane un attimino non problematica, perché comunque parliamo di interregionale, però abbiamo anche la fortuna che abbiamo un under che se avessimo avuto l'eccellenza usciva fuori, cioè Antonio Ricci, mentre Antonio rimane un'altra volta come under quest'anno in interregionale, quindi già è una fortuna avere un under con già una buona esperienza. E per quanto riguarda la gestione di Napoletano, è sempre un po' difficile, ma d'altra parte i grandi giocatori sono così. Ma la gestione di Napoletano, io mi auguro che Daniele rimanga a piedi monte, egoisticamente parlando, però è normale che se ha delle offerte importanti è bene che lui scelga di andare altrove, però ripeto, è tutto da vedere, è tutto da decidere. Io mi auguro, egoisticamente parlando, che rimanga a piedi monte per il bene del piedi monte, però benvenga se dovesse scegliere una società importante. Allora, un'altra domanda al direttore sportivo. I soldi, ma i soldi per fare questa squadra se lo chiedono tutti. Molte squadre arrivano in serie D come qualche anno fa la Capriatese che poi non ha fatto la quarta serie ma la quinta serie, teniamo a precisare. Se il piedi monte andrà a giocare in serie D sarà la quarta serie nazionale e non la quinta serie nazionale. Ecco, i soldi usciranno da qualche parte. Ma guarda, parlare così banalmente di soldi è un po' brutta, perché noi fondamentalmente noi come dirigenti il nostro impegno è quello di garantire un progetto importante che stiamo e che vogliamo costruire con tutti. Ovviamente non lo nascondiamo che abbiamo bisogno del sopporto, che sia quello dei tifosi, che sia il sopporto degli imprenditori locali, che sia il sopporto di tutti. Ovviamente noi la prima cosa che faremo, che è una conferenza stampa a brevissimo dove spiegheremo il nostro progetto, dove ovviamente sarete invitati a questa conferenza stampa, spiegheremo quello che è il nostro progetto e quella che è la nostra idea di apertura verso tutti. Ovviamente non possiamo rimanere saldi e statici sulle nostre posizioni, ma dobbiamo dare un segnale di apertura per far sì che questo sogno a Piedimonte e nell'intero territorio dell'Alto Caserta non si possa realizzare. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, Mr. Mario Morra, il direttore sportivo Carlo Loffreda, dal bar Avantgarde di Piedimonte Matese è tutto. Ringraziamo la gestione del bar. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata.